Costruisci un'analisi di mercato professionale. Sono stati anni interi in cui era davvero difficile farmi firmare degli incarichi e a quel punto ero costretto ad abbassare gli standard, lavorare con incarichi aperti, abbassare le commissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Per poi trovarmi un bel giorno, quando magari avevo una visita a casa di questo cliente che mi liquidava dicendomi, guarda, ho venduto casa un mese fa e non aveva neanche avuto la dignità di chiamarmi, avvertirmi di questa cosa. A un certo punto ho detto basta e oggi i miei incarichi sono al 100% in esclusiva. Ci sono state due svolte importanti nella mia carriera. La prima, quella di prequalificare attentamente ogni cliente che dovevo andare a trovare. La seconda è stata quella di creare un'analisi di mercato professionale. E non è stato facile cambiare questa abitudine perché come te ero abituato magari a correre la casa di un cliente, a valutargli la casa, a vederlo, tornare in ufficio a lavorare, tornare a casa sua 3-4 volte per poi dopo veder succedere nulla. Ma se il tuo obiettivo oggi, come lo era stato per me nel passato, era quello di aumentare il numero di transazioni, bisogna cambiare qualche abitudine. Non puoi arrivare a ottenere risultati diversi facendo le stesse cose che facevi prima. Ora ti mostro qual è la mia analisi di mercato professionale che arriva a casa del cliente almeno due giorni prima dell'appuntamento. Questa è una busta che arriva direttamente in posta attraverso un Pony Express a casa della persona. E la prima cosa che colpisce è l'immagine che viene data. Perché è il tuo biglietto da visita prima dell'appuntamento. Non risparmiare in grafica, non risparmiare nei materiali, devi mettere sul tavolo un qualcosa che non ha mai ricevuto da nessuno. Nella prima parte dell'analisi di mercato ci sono le testimonianze, clienti venditori che hanno venduto la casa con me. Ovviamente loro mi hanno autorizzato a lasciare la loro mail e il numero di telefono in modo che chiunque abbia la volontà e la voglia possa contattargli e chiedere magari dei dettagli direttamente a loro su quello che è il mio operato. Una cosa che ho imparato nel tempo è che è davvero molto diverso per le persone che ci sia un qualcuno che parla bene di te piuttosto che tu stesso che ti vanti dei tuoi risultati. Avere un buon numero di testimonianze sia nell'analisi di mercato sia anche magari sulle tue pagine social della tua azienda è di vitale importanza. Successivamente alle testimonianze, allego sempre quello che è il piano di vendita per il loro immobile. Perché tra le obiezioni più costanti che ho seguito nel tempo sono quelle ma chi mi garantisce che lei farà tutto quello che mi dice? E soprattutto me l'hanno detto anche gli altri agenti immobiliari poi dopo ho affidato l'incarico a loro e in realtà è andato molto diversamente. Mettere nero su bianco, che cosa farai e dentro quando lo farai dà una certa tranquillità alle persone. Addirittura in alcuni casi io allego il piano di marketing direttamente nell'incarico di vendita con l'obiettivo molto semplice. Qualora io non rispettassi quello che le sto indicando qui, nei tempi che le ho indicato, lei è autorizzata a rescindermi il contratto senza penali, senza nulla. E credimi che quando fai un'osservazione di questo tipo a un proprietario cambia veramente il paradigma con cui lui ti vede ai suoi occhi. Successivamente al piano di marketing ci sono dei casi specifici dove vado a indicare che cosa abbiamo venduto, in che tempi li abbiamo venduti e qual è lo sconto medio di mercato. In modo che la persona sappia esattamente quali sono i risultati concreti raggiungibili dalla tua attività lavorativa. La successiva fase della relazione di mercato sono degli estratti dai giornali di settore, il Sole 24 Ore, la Stampa, eccetera, dove va a rinquadrare un po' la situazione del mercato in generale. Perché tutti si fidano di quello che sentono, mentre in realtà c'è bisogno, per fare chiarezza, di dati concreti. La situazione del mercato immobiliare in Italia è questa. I prezzi sono ancora in calo e stanno aumentando leggermente le transazioni. Mettere qualcosa di autorevole, in modo che il cliente possa vederlo, le rimette comunque nella carreggiata giusta per capire qual è il momento economico in cui stiamo vendendo. Successivamente a questa fase, arriva la fase più importante per la definizione del prezzo. in cui stiamo vendendo.